227 posti occupati su 264 disponibili, 176 accessi al pronto soccorso solo nella giornata di lunedì. La richiesta di salute dei cittadini nonostante la stagione estiva non va in ferie. I giorni festivi anzi vedono spesso un aumento degli accessi ai nosocomi, complici per così dire le assenze dalle sedi dei medici curanti. Al divenere di Carbonara la situazione resta comunque sotto controllo grazie anche al sacrificio del personale, in particolare quello infermeristico. Si è riusciti ad evitare dunque la riduzione dei posti letto, una scelta giusta considerato comunque che in molti reparti, in particolare la medicina interna, la neurologia, la nefrologia, la neurochirurgia e l'ortopedia, i posti sono al completo e in alcuni casi si è dovuto far ricorso anche ai letti aggiuntivi. Luigi Lestingi, direttore medico della struttura, ha illustrato la situazione. Per fortuna grazie al sacrificio del personale medico, ma devo dire soprattutto del personale non medico. Abbiamo lasciato attivo tutti e i fatti ci danno ragione perché oggi l'ospedale è quasi completamente pieno, abbiamo anche dei reparti soprattutto nell'area medica in cui ci sono più ammalati rispetto ai posti letto, ci sono le famose barelle. Questa è una regola che vale per tutto l'anno a dire la verità, cioè rivolgersi prima al medico curante soprattutto per i disturbi meno urgenti, cioè i codici bianchi o i codici verdi, quelli poco critici. Mi rendo conto che d'estate, magari ieri abbiamo avuto 176 accessi al pronto soccorso, il medico di medicina generale magari è pure lui in ferie, l'utente dice che non c'è il suo medico curante, in realtà non è così, c'è il sostituto. Però magari non c'è quel rapporto di fiducia medico-paziente che per 11 mesi, 11 mesi e mezzo il paziente è abituato ad avere e quindi il paziente preferisce rivolgersi in ospedale.